Salve a tutti ragazzi, io sono Marti e oggi siamo in un nuovo video. Allora, in questo video andremo a vedere dopo quasi due anni, perché secondo me l'ultimo episodio, non mi ricordo, ma l'ho registrato l'anno scorso, a gennaio, non mi ricordo ragazzi. Comunque è un bel po' di tempo che non registro l'episodio di questa serie, ma ho guardato il precedente e visto che mi erano piaciuti molto, quindi ho deciso di registrare un quarto episodio. Comunque, oggi come ho ben spiegato e avete letto anche dal titolo, andiamo a vedere i miei disegni eccenti, che sono in questo padello. In realtà li ho già tirati fuori per fare prima, però di sicuro vi ricorderete in questo episodio, non so parlare. Questo qualerno è che ci ha accompagnato negli scorsi episodi. Comunque, i disegni sono questi, adesso c'è, ecco, sono questi qui. Non sono moltissimi, ma ragazzi, ho cercato di raccogliere quelli che ho fatto l'anno scorso, quelli che ho fatto quest'anno, insomma. E poi ce ne sono un paio che sono molto vecchi, cioè hanno 4-5 anni, che feci quando andavo ancora a scuola e che secondo me non vi ho mai fatto vedere qui. Ho recontrolato anche gli altri episodi, non mi pare di averli fatti vedere, in caso contrario scrivetemi nei commenti e vi chiedo scusa. Comunque, ricordatevi di lasciare un like a questo video se vi piace, fatemi sapere se vi piace disegnare. Dopo questa intro lunghissima possiamo partire e iniziare con i primi che vedo qua davanti, che sono due occhi. Quindi, disegnati su dei fogli di recupero, che io disegno anche sui fogli di recupero, quindi. Il primo è questo, che è un occhio che ho preso da una foto di un lupo, tipo un occhio di un lupo, e ho disegnato questo. Che non è niente di che, perché è venuto anche male, e tra l'altro ragazzi, non è neanche finito perché dovevo continuare di qua, ma... Boh, alla fine l'avevo tipo lasciato così perché non mi dispiaceva, però, cioè, giudicate voi, non è tutta sta perfezione. Invece questo di qua mi piace di più, perché è finito, non è perfetto, però è fatto con anche il carboncino e la matita. Insomma, è un occhio con una foresta, questo. E questo qui mi piace veramente un sacco. Oddio, non è tutta sta cosa realistica, quindi magari a voi non mi piacerà, però, per me che non so disegnare, mi piace veramente un sacco. Perché poi, non so perché faccio questi video, perché questi video li fa, magari che sa disegnare, a me piace molto, però io non so disegnare, quindi... Comunque, mi piace la mia maglia, l'ho comprata in un sito e l'internet, e se vi piace, non so, fatemi sapere. Passiamo al prossimo disegno, che se no ci mettiamo troppo. Allora, questo è un vaso di Nutella, semplicissimo, fatto più o meno realistico, poi non è realistico, perché non ha sommature niente, però mi piace come è venuto. È abbastanza carino, quindi me lo avvicino il più possibile. E niente, avevo voglia di disegnare un vaso di Nutella, l'ho disegnato. Quindi, questo qui, questo qui è recente, l'ho fatto l'anno scorso, un anno fa, capire, recente, per modo di dire, però... Qua c'è una sorta di lettering fatto male, perché non è fatto bene, però... Ho scoperto che mi piace anche il lettering, però è tipo una specie di... Sembra una di quelle damigiane dove si mette il vino, ma in realtà è un box di sogni, infatti c'è scritto non agitare, contiene sogni. Nulla di che, però a me piace molto. È semplice, è carino, è colorato, colorato sì, più o meno, è molto bello. Poi, veniamo a un altro disegno, che questo qua invece è tipo... È vecchissimo, e questo è uno di quelli che vi dicevo che non penso di avervi mai fatto vedere. Questo qui, questo disegno qui, che è terrificante, perché ha la bocca da donna, ma soprattutto gli occhi, ragazzi, sono pessimi. Questo è Justin Bieber, ma penso che c'è scritto. Ho provato anche tipo di imitare una sorta di autografo, per scriverlo qua. E non mi... Allora, il foglio è tipo ultra sporco, ma perché io non sono molto precisa, però non mi dispiace. I capelli sono terrificanti, ma non mi dispiace. Soprattutto questa parte della giacca mi sembra molto, cioè, fatta bene. Le sfumature anche mi sembrano fatte molto bene, però nel complesso. Non mi piace molto perché non sembra molto realistico, però fatemi sapere se mi piace. Poi, in realtà, tipo, per decorarlo ancora di più, ho aggiunto una bandiera della pace, diciamo, così, con colori qua di fianco. Mi sembra una cosa molto carina. Questo qui ha tipo 4-5 anni, non mi ricordo quanti anni, ma ne ha un po'. Poi, questo qui, che è tipo un 300 l'ho fatto quest'anno. È una parra di Natale, ci stiamo avvicinando per, in realtà mancano due mesi, ma avevo voglia di fare qualcosa di Natale perché non vi ho mai fatto vedere disegni di Natale, ma... Facciamo sempre gli episodi in agosto, quindi, cioè, Natale, dov'è il Natale? Quindi, vabbè, comunque, questo è una di quelle palline di Natale che se le agiti, tipo, c'è la neve, perché faccio così, vabbè. E quindi, anche qui c'è un po' di lettering, è Christmas, scritto un po' normale. Non si vedrà mai nella vita, perché io lo vedo, ma in telecamera si vede al contrario, quindi non lo so, però spero vivamente che si vedano. Che vi piace? Aspettate che provo a mettervelo, tipo, così. Non so se lo vedete, però a me non dispiace. Poi, un altro disegno che non vi ho fatto vedere, che è al tempo che il disegno è una scritta con dei colori, ed è questa. Tutto normale, c'è scritto Illusione da Instagram, con le frasi della canzone, che è la canzone di Matteo, che vi lascio il link qua sotto per andarla ad ascoltare. Quindi, in realtà, non è nulla di che, c'è una scritta colorata con delle linee e le frasi. Andiamo avanti. Adesso li pesco a caso. Allora, questo qui è un altro disegno vecchissimo, questo qui, secondo me, ha anche sei anni. Non lo so, ragazzi, perché io, quando ero a scuola, dovete sapere che nelle ore bruche, in cui non sapevo molto cosa fare, a volte mi mettevo a disegnare. Ci sono dei disegni che non trovo più. Questo qua, invece, non so come ho fatto a conservarlo, ma l'ho conservato. Ed è un disegno che c'era su un diario, e mi sono ispirata, appunto, a una figura che c'era sul diario, e ho iniziato a disegnare, e poi l'ho colorato. Io l'ho disegnato scrivendoci. Oggi non ho niente da fare, per cui ozio sul divano. Non è nulla di che, però mi sembra carino, più o meno, adesso. Comunque, cioè, i miei capelli fanno un sacco di, cioè, sembrano strani, ma... In realtà, ragazzi, sono un po' tipo biondi sotto, i sopra sono rossi. E sono molto belli, però... cioè, a me piacciono. Però sembrano strani, quindi, boh, non lo so. Allora, questo qui è un altro di quelli molto recenti, l'ho fatto qualche giorno fa. E è praticamente un disegno Tumblr, se si può dire così, ed è questa. Questa ragazza dell'Adidas. Però qui, invece, c'è Adidas, c'è scritto Lonnie, che vuol dire sola. Mi andava, e poi... nel senso... mi andava. Più che altro è che, una volta che ero partita a disegnare, mi sono fatta che qui non ci stava Adidas. E quindi volevo cambiare, ho detto, vabbè, provo a farlo diverso. Questo qui mi piace tantissimo, perché col fatto che ho disegnato i capelli con un pennarellino nero, di quelli tipo tratto pen, mi è venuto bene. Questo mi piace molto, è uno dei miei preferiti di questo video. Poi, per la serie disegni di Sailor Moon, che se avete visto gli scorsi episodi, sapete che io ho una predilezione per i disegni di Sailor Moon. Anche appunto ho disegnato questa. La Moon Crisis, che è tipo la spilla. Moon Crisis Compact. Non mi ricordo come si chiama questa spilla, perché ce l'ho scritto, ragazzi, ma... Questo l'ho fatto l'anno scorso, quindi non mi ricordo. Comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché... In questo momento, nonostante ho più riguardato Sailor Moon un sacco di volte, ho l'Axus. Comunque, questa qui, teoricamente, se non vado errata, dovrebbe essere la spilla della quarta serie di Sailor Moon. Ed è veramente bella. Poi ci ho fatto il fiocco, perché... Usaggi, c'è tipo il fiocco con la spilla attaccata, tipo quando si trassuma e diventa Sailor Moon. Poi, andiamo avanti in un altro disegno più o meno realistico, sempre perché... Allora, io ho dei problemi, come ho detto, prima di disegnare le mani, e quindi ho provato a disegnare una mano. Aiuto. Ho provato a disegnare una mano, cioè questa mano. Che è terrificante. Che però l'avevo disegnata a lavoro, in un momento... L'anno scorso lavoravo, se non lo sapete. E in un momento di buco, tra virgolette, mi ero messa a disegnare questo. E a lavoro era piaciuto tanto questo disegno qua. E mi ricordo che da allora poi mi avevano chiesto di disegnare i biglietti di Natale, di fare delle insegne, insomma. Mi avevano fatto fare delle cose grafiche, perché avevano visto che comunque era abbastanza brava, quindi... Mi ringrazio, ma in realtà io faccio cagare. Allora, i prossimi disegni, che in realtà me ne mancano due di questi, però sono di una, diciamo, tema che ho fatto nella mia pagina di Instagram per Matteo. E praticamente ho voluto disegnare delle foto di Matteo con una delle fan, con sotto il nome. E sono quasi tutte mie amiche. E vi faccio vedere quello che mi piace di più, che è quello che ho fatto per Jenny, che mi è venuto benissimo, secondo me. Cioè, oddio, benissimo è una parola grossa, però mi è venuto bene e mi piace molto. Che è questo. Qui c'è Matteo e lei, che sono bellissimi, anche disegnati, cioè io li amo. E niente, qua c'è il significato del nome, Jenny, Jennifer, che significa spirito splendente. E lei si addice, perché lei è proprio una persona splendente, bellissima. Comunque, andatela a seguire su Instagram e niente. Dopo questo spam, questo è quello che mi piace di più. Gli altri ve li faccio vedere proprio di volata, perché secondo me sono venuti male. E tipo, allora, questa sei io con Matteo. Cioè, ragazzi, come vedete in ognuno c'è scritto una frase di una canzone. E questa qui è una canzone che al momento non c'è, però è uscita su Spotify l'anno scorso. È una canzone che a me piace tantissimo. E il mio nome significa Devota a Marte. Io mi chiamo Martina e il mio nome significa Devota a Marte. Wow, che gioia! E invece questi due sono questi altri due. Questa è una delle mie mie amiche e questa è un'altra ragazza, insomma, a cui avevo fatto un disegno. Vi faccio vedere e niente. In realtà, sì. Sono sincera, questi disegni non è che mi facciano proprio impazzire. Perché non ho fatto proprio dei disegni molto belli. Però, in ogni caso, spero che vi siano piaciuti. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Che questi disegni vi siano piaciuti. In realtà, non piacciono manco a me al momento. Quindi, va bene. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo video. In ogni caso, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere se vi piace disegnare e se disegnate. E se volete mandarmi in Instagram, abbiamo visto che c'è un link sotto per seguirmi qualche vostra creazione. A me fa molto piacere. Insomma, io non sono bravissima, però mi fa piacere condividere la mia arte con le altre. Quindi, niente. Questo video finisce qua. Noi ci vediamo al prossimo. E non so più cosa dire. Quindi, ciao!